ragazzi buonasera si lavora si lavora ragazzi si lavora stasera sto facendo una selezione di fotografie sono qua al computer già sono pronto ecco qualcuno non ci crederà invece è vero sono al computer vi faccio anche vedere sto al computer vedete ecco qua vedetemi ecco qua sono al computer sto selezionando le foto che mi sono arrivate da poco grazie a marco cazzi lo che il il webmaster di fabio mancini il modello che sicuramente voi conoscete perché siete persone attente a sapere tutto e quindi sto cercando le fotografie poi che dovrò mettere poi sulla social e ringrazio sempre fabio che è sempre molto gentile che mi informa sempre poi sta preparando anche altre cose questo è un beachwear allora vi dico che qua si tratta del beachwear di fotografo marco tazzinari di zebra portofino 1962 questo è il profilo e poi c'è seasons pink summer 2017 scatata a venezia production by patrizia pesci grooming by alenca cupic cupric un abbraccio beh ok perfetto vediamo le fotografie adesso sono curioso perché qua mi sono arrivate queste foto che poi sono enormi ecco vi faccio anche vedere un pochettino le fotografie in anteprima e ragazzi in anteprima perché queste sono cose che non dovreste vedere però io ve le faccio vedere lo stesso ecco perché sono una brava persona sperando che si apra il la foto che sono talmente grandi eccole qua perfetto guardate guardate queste fotografie giusto per farvi capire che ecco qua questa è una foto eccola qua c'è questa che è meravigliosa questo è tutto beachwear ragazzi eh saluto anche Fabietto che mi sta guardando ho visto perfetto ciao Fabio come vedi lavoro per te ecco lavoro per te e allora ancora vediamo aspetta se trovo pochettino però ecco qua poi ecco qua questo super perfetto super perfetto ecco è tutto in anteprima in anteprima questa è nessuno ce l'ha c'ero solo io ok quindi non le copiate c'è quest'altra qua adesso si apre che meravigliosa sicuramente già già le ho viste però ve le sto facendo vedere perché so che siete curiosi e quindi vi dovete vedere tutto, ecco qua vedete un po', eccola qua, questa perfetto, ve la avvicino pure per farvi vedere la bellezza, perché veramente questa è proprio la bellezza ragazzi, la bellezza, incredibile, perfetto, qualcuno che mi fa i complimenti, ecco qua ancora vediamo altre foto, aspettate che vedo dove sta la cosa, ecco qua, ecco qua, perfetto anche quest'altra qua, adesso andiamo ad un'altra, questa è Zebra Portofino, questa è la nuova collezione, questo è un beachwear, sono tutti beachwear, aspettate che si carica, il tempo che si carica, perché sembrano le lentezze, poi sono foto e no, eccola qua, quest'altra qua, eccola quest'altra foto, ok però non vi faccio vedere più niente, vi faccio vedere niente più perché altrimenti qualcuno potrebbe denunciarmi per questa cosa che non si fa, ragazzi non si fa, non so voi che ne pensate, sono contento, credetemi, sono contentissimo perché veramente ho delle anteprima che, cioè queste sono cose che usciranno poi sui giornali, ce l'ho io, ed è bellissima sta cosa, grazie Fabio Mancini, vediamo un'altra ancora, un'altra la faccio vedere, una proprio, un'altra, Ferdinando ciao carissimo, buona serata, sempre operativo, e sempre, caro Ferdinando, qua si lavora sempre, perché altrimenti questi modelli mi trattano male, se non mi metto a lavorare, i modelli mi licenziano, invece no, devo lavorare, ecco, guardate quest'altra qua, ve la faccio vedere per curiosità, perché voi dovete, voi siete persone curiose e dovete, eccola qua, questa un'altra, sempre beachwear, quindi questa però in camicia, questa da yacht, che è anche molto bella, lascio vedere meglio, perfetto, eccola qua, è meraviglia, ecco, basta così, avete visto troppo, ecco, quindi ringrazio Fabio Mancini, che devo dire, sempre molto gentile, oggi mi ha fatto, lui adesso in Croazia, che sta facendo un servizio fotografico lì, poi dovrà andare a Parigi ancora, in giro per il, giro per il mondo, come sempre, ma io sono contento per lui, perché è veramente un ragazzo strepitoso, di una gentilezza unica, ho messo anche un video nostro, che ho fatto un po', un montaggio di un video fatto da noi, e devo dire che Fabio è Fabio, appunto, cioè non dico altro, veramente è un ragazzo d'oro, e sto iniziando questa bella collaborazione con lui, spero di poterla portare avanti nel tempo, spero che sia un, appunto, proprio è bello vedere questo, questo ragazzo, che con tutto il successo che ha, comunque, si mette sempre a disposizione, mi fa sempre tanti regali, vediamo un'altra foto, guarda, l'ultima foto che vi faccio vedere, ma sono tante ragazzi, sono veramente tante, però un'altra ve la faccio vedere, appena si carica la foto, ve la faccio vedere, quindi restate lì, tra un po' arriva la fotografia, eccola, questa preparatevi, perché veramente è la foto doc, però questa è l'ultima, poi me ne vado perché devo fare un po' il lavoro, devo così ridurle le fotografie che sono enormi, guardate un po', faccio vedere subito, eccola qua, questa qui, meravigliosa, più che mai, ma lui è Fabio, non c'è niente da fare, cioè io poi ho tanti ragazzi che sono sui fan e devo dire che mi fanno sempre tanti complimenti, allora, Alfonso Somma, lo saluto, ciao Alfonso, vediamo ad Agisa Glani, anche che saluto, ciao Adalgisa, Adalgisa che è una che di moda se ne intende, quindi sicuramente starà approfittando, cioè starà apprezzando questo mio lavoro che sto facendo, che è meraviglioso, perfetto, Emanuele Maringola, ciao Emanuele, ciao un bacio, anche tu, sei bellissimo, dice qua io conosco tanti bei ragazzi che sicuramente stanno apprezzando il mio lavoro, ecco, però queste sono anche prime ragazzi, non me le posso far vedere, non me le posso far vedi, tenete il prete, ciao Daniele, un bacio, ecco, basta, sì, avete visto troppo, basta, adesso basta, altrimenti Fabio si incazza e mi licenza e mi ha dato un bel messaggio, bello tosto, da poi in poi non lo faremo più insieme, sto scherzando, ciao a tutti ragazzi, buonanotte, fate i bravi, io continuo a lavorare perché ho tante cose da fare, tante cose da sistemare qua al computer, ciao Raffaele Latino, un abbraccio anche per te, un abbraccio grande Raffaele, Raffaele, vabbè, Raffaele, una te la faccio vedere, ma proprio perché, proprio perché sei tu, proprio perché sei tu, ecco qua, vedete qua, eccola qua, la foto, perfetto, questa qua, foto qua, un'altra proprio, un'altra proprio, dai un'altra proprio, vediamo un po' questa che adesso che esce, che esce adesso, vediamo un po', la sorpresa, vediamo un po' la sorpresa, sta caricando, sta caricando, sta caricando, eccola qua, quest'altra, un'altra beachwear, sempre in tenuta estiva, perfetto, siamo, eh, lo so che siete curiosa, eh, che sei curiosa Daniella, però, eh, poi sicuramente vedete sul mio sito, ecco qua, se è proprio oscurato il video, vedete sul mio sito e sicuramente vedrete le fotografie, buonanotte ragazzi, vi voglio bene, un bacio, grande, ciao, 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 ciao.